La vostra impresa opera a ciclo continuo. Il guasto di una singola guarnizione può fermare completamente la produzione. Noi della Freudenberg Express siamo in grado di supportarvi producendo qualsiasi profilo, in mescole speciali, in aggiunta a 25 materiali standard. Spediamo quindi rapidamente in tutto il mondo i ricambi per buona parte delle guarnizioni. Alla Freudenberg Express le principali tecnologie produttive sono la tornitura e la fresatura. I nostri 20 anni di esperienza nella produzione di guarnizioni tornite vi garantiscono rapidità nei processi e massima precisione nella lavorazione di prodotti standard o a disegno. Il tutto nella qualità originale Freudenberg. Le sfide? Ci piace affrontarle. Per l'industria pesante, di processo o generale, con Freudenberg Express offriamo sempre la soluzione giusta. Non ci serve che un codice articolo, un disegno o un campione. Il vantaggio? La vostra guarnizione non dovrà attraversare il mondo. Forniamo rapidamente e in modo affidabile dalle nostre sedi produttive locali. Questo senza inutili passaggi e, se necessario, entro 24 ore. In questo modo risparmirete tempo e denaro. Garantite il successo della vostra azienda con tecnologia e qualità all'avanguardia. Per la tornitura e la fresatura usiamo solo utensili specifici, con il supporto di un software sviluppato appositamente. Freudenberg Express completa la gamma con produzioni di serie di Freudenberg Sealing Technologies, con prototipi, piccoli lotti e i ricambi dei vostri impianti per tutto il ciclo di vita. In questo modo non perseverete solo le vostre performance produttive, ma avrete anche la consapevolezza di avere sempre uno specialista al vostro fianco. Contattateci presso il vostro stabilimento Freudenberg Express locale o presso una sede Dictomatic vicina a voi. Freudenberg. Innovating together. Grazie. Grazie. Grazie.